buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui risolveremo un esercizio di equilibrio chimico basandoci sul principio di le chatelier abbiamo la seguente reazione chimica all'equilibrio in cui c'è dell'ossido di azoto che reagisce con di ossigeno per formare diossido di azoto tutti tutte le specie chimiche sono ai riformi è instaurato l'equilibrio si sa anche che la reazione è esotermica in quanto la sua variazione di entalpia di reazione è negativa abbiamo la seguente tabella in cui sulla sinistra sono elencate delle possibili perturbazioni che andremo ad inserire ad applicare alla precedente reazione all'equilibrio e studieremo come variano le concentrazioni di no di o2 di no2 come verrà spostato l'equilibrio sia sinistra destra e quale sarà la variazione del valore della costante di equilibrio k e q iniziamo con con la variazione della concentrazione di no allora come detto questa reazione è all'equilibrio e una volta raggiunto l'equilibrio immaginiamoci che tutto tutte queste specie chimiche siano all'interno di un contenitore chiuso sigillato a quel punto quando raggiunto l'equilibrio andiamo ad aumentare la concentrazione di no no è un reagente il sistema non sarà più l'equilibrio e cercherà di raggiungere un nuovo stato di equilibrio controbilanciando il più possibile la perturbazione che è stata inserita cioè il sistema secondo le chatelier fa esattamente l'opposto allora se abbiamo aumentato uno dei reagenti è chiaro che immediatamente si vedrà un calo della concentrazione di no sistema fa l'opposto ma per avere un calo della concentrazione di no è chiaro che dovrà lo stesso no reagire con un po' di o2 quindi anche o2 farà esattamente la stessa cosa di no ovvero diminuerà la concentrazione ma se questi due reagiscono tra di loro per diminuire la concentrazione aumenterà di conseguenza quella del prodotto no2 e potremmo così dire che l'equilibrio si è spostato a destra il valore della costante di equilibrio rimarrà completamente inalterato perché non dipende dai cambiamenti di concentrazione delle specie chimiche all'equilibrio viceversa se avessimo invece una volta che il sistema raggiunto l'equilibrio tolto un po di no che è il reagente avremmo subito visto che secondo le chatelier il sistema fa esattamente l'opposto della perturbazione introdotta il sistema cercherebbe di rigenerare un po per raggiungere una nuova situazione di equilibrio ma rigenerare un po di no significa scassare un po di no2 a favore non solo di no ma anche di o2 quindi entrambe queste concentrazioni aumenterebbero a discapito della concentrazione di no2 che invece diminuirebbe ma questo significa spostare l'equilibrio a sinistra ovvero diminuire le concentrazioni di ciò che c'è a destra per aumentare quelle di sinistra di nuovo il valore della costante di equilibrio non varia per i motivi detti prima un'altra perturbazione potrebbe essere la variazione di temperatura immaginiamoci che questo equilibrio si decidesse di aumentare la temperatura questo equilibrio naturalmente è stato raggiunto ad una certa temperatura fissa quindi scaldiamo la reazione ricordo che è esotermica quando noi scaldiamo il sistema secondo le chatelier fa esattamente l'opposto cerca di raffreddare ma per raffreddare deve attivare la reazione inversa quella che va da destra a sinistra quindi quello che si nota scaldando è un aumento della concentrazione dei reagenti a discapito del prodotto che diminuirà questo significa anche che l'equilibrio si è spostato a sinistra è da notare che un un innalzamento di temperatura per una reazione esotermica provoca una diminuzione del valore della costante di equilibrio la diminuzione del valore della costante di equilibrio studiando l'espressione della costante di equilibrio significa una diminuzione del numeratore rispetto al denominatore ma al numeratore c'è appunto il prodotto ecco qua abbiamo visto che diminuirà quindi è tutto concorde a favore dei reagenti che invece aumenteranno esattamente l'opposto l'abbiamo nel caso di una diminuzione della temperatura come perturbazione se al sistema l'equilibrio diminuissimo la temperatura la il valore della costante di equilibrio per una reazione esotermica dovrebbe aumentare il sistema secondo le chatelier vorrebbe raggiungere un nuovo stato di equilibrio facendo esattamente l'opposto della perturbazione introdotta cioè vorrebbe quindi alzare la temperatura stessa per alzare la temperatura visto che la reazione esotermica dovrà spostarsi a destra diminuire quindi la temperatura significa far sì che ci sia una diminuzione dei reagenti un aumento del prodotto perciò possiamo dire che l'equilibrio si è spostato a destra dire che l'equilibrio si è spostato a destra con un aumento della concentrazione del prodotto significa anche dire che il valore della costante di equilibrio visto che è aumentato il numeratore che è costituito dalla concentrazione molare del prodotto dovrà aumentare un'altra perturbazione potrebbe essere quella di aumentare la concentrazione del prodotto quando aumentiamo la concentrazione del prodotto il sistema cercherà di consumarlo di consumarlo e quindi di diminuirne la concentrazione a favore dei reagenti che naturalmente aumenteranno il sistema l'equilibrio quindi si è spostato a sinistra questa perturbazione non ha nessuna incidenza sul valore della costante di equilibrio che rimane inalterato viceversa se dovessimo togliere uno dei prodotti il prodotto stesso secondo il principio di le chatelier dovrebbe essere ripristinato ma per formare ancora un po di prodotto si devono devono reagire un po tra di loro i reagenti quindi devono consumarsi in parte e la loro concentrazione dovrà perciò diminuire in questo caso il l'equilibrio si è spostato a destra di nuovo nessuna variazione sulla costante di equilibrio in quanto ricordo che la costante di equilibrio varia dipende esclusivamente dalla temperatura del sistema della variazione di temperatura non dalle variazioni di concentrazione e neanche di pressione un'altra perturbazione potrebbe essere quella dall'aumento data dall'aumento della pressione dovuta a una diminuzione del volume del sistema stesso infatti se diminuisce il volume cambieranno anche tutte le concentrazioni delle specie chimiche coinvolte all'equilibrio se aumentiamo la pressione visto che tutte le specie chimiche all'equilibrio sono ai riformi il sistema stesso cercherà di diminuirla secondo il principio di le chatelier per diminuirla vediamo che a destra ci sono due molecole coefficienti stechiometrici per ogni tre molecole a sinistra 2 più 1 aumentare la pressione come perturbazione provocherà quindi un tentativo di diminuirla da parte della reazione chimica stessa al fine di raggiungere un nuovo stato di equilibrio per diminuirla il tutto si sposterà dalla parte dove ci sono meno molecole perciò si osserverà un aumento della concentrazione del prodotto e una diminuzione della concentrazione dei reagenti si può anche dire che in questo caso l'equilibrio si è spostato a destra nessuna variazione per quanto concerne la perturbazione della pressione sul valore della costante di equilibrio viceversa aumentare il volume del sistema significa diminuire le concentrazioni ovvero diminuire la pressione in questo caso abbiamo esattamente l'opposto di prima il sistema secondo il principio di le chatelier cerca di aumentare la pressione e quindi di formare dei reagenti più molecole più urti nel microscopico maggiore la pressione nel macroscopico il l'equilibrio si sposterà per questo motivo a sinistra e si noterà un aumento dei reagenti a discapito del prodotto che diminuirà ultimo caso una variazione di pressione in questo caso un aumento di pressione per inserimento nel contenitore dove si trovano tutte queste specie chimiche all'equilibrio di un gas inerte ad esempio elio è vero che abbiamo un aumento di pressione ma l'inserimento dell'elio non provoca una un cambiamento delle concentrazioni delle specie se la variazione di pressione non provoca un cambiamento delle concentrazioni delle specie chimiche coinvolte nell'equilibrio non avrà nessun tipo di influenza né sullo spostamento dell'equilibrio e quindi né sulla variazione delle concentrazioni delle specie all'equilibrio né tantomeno sulla variazione del valore della costante di equilibrio come possiamo notare ripetiamo i cambiamenti del valore della costante di equilibrio riguardano esclusivamente perturbazioni inerenti la temperatura variazioni di temperatura non quelle che riguardano le concentrazioni e neanche quelle che riguardano le pressioni spero che questo video vi sia stato di aiuto grazie dell'ascolto e alla prossima